Lo sapete che proprio nell'età adolescenziale il nostro cervello possiede enormi potenzialità. La plasticità che hanno appunto gli adolescenti è quella capacità di imparare e di essere creativi ai massimi livelli. La creatività è quella dote di percepire e recepire informazioni esterne e trasformarle in idee nuove ed innovative. Se oggi vado a letto, non avendo fatto nulla di nuovo rispetto a ieri, oggi è stato sprecato, dice Bill Gates. Questo è proprio quello di cui ha bisogno oggigiorno la nostra società per risolvere gli innumerevoli problemi di cui siamo circondati. Abbiamo bisogno di regalare ai giovani terreni fertili sui quali poter costruire nuove idee e aiutare loro a trovare il proprio percorso di vita. Eppure, quando io era un adolescente e frequentavo la scuola secondaria, l'unica cosa che veniva chiesta a me e ai miei compagni di corso era quella di immagazzinare informazioni e restituirle secondo un linguaggio scritto o parlato. Insomma, eravamo visti come una sorta di database pronti a restituire informazioni ogni qualvolta ci venisse richiesto di farlo. E quell'enorme capacità di associare quelle informazioni, comporle, scomporle, giocarci per dare vita a idee e a pensieri nuovi, il cosiddetto pensiero critico, veniva per lo più represso. Ed è così che mi sono sentita negli anni della scuola secondaria, repressa, come se qualcosa all'interno di me fosse pronta ad esplodere. Boom! Eppure ci tengo a specificare che ho vissuto gli anni della scuola in maniera di tutto serena, in armonia con i miei docenti e con i miei compagni di classe. Ed ero anche una studentessa abbastanza discreta. Ma l'ambiente all'interno del quale mi trovavo non mi permetteva di esprimere appieno quel potenziale. Ma poi, effettivamente, ma che cos'è questo potenziale? Al termine delle superiori ho capito che era finalmente arrivato il momento di scoprire che cos'è questo potenziale e di poterlo esprimere. Ma per arrivare all'obiettivo e alla mia missione pensavo che fosse fondamentale riuscire a individuare il giusto percorso universitario. E in base ad un po' di cose che credevo di non saper fare e un po' per intuito, ho scelto di frequentare l'università di design. Perché credevo di avere delle buone idee e l'unica cosa che sapevo dell'ambito del design è che è quella disciplina che ti permette appunto di sviluppare delle idee attraverso un processo creativo. uno dei fulcri principali che si studia in tutte le facoltà di design è il metodo del design thinking. Che cos'è il metodo del design thinking? È un approccio che ci permette di risolvere problemi complessi, di sciogliere i nostri problemi complessi e di arrivare ad una soluzione, quindi di sviluppare dei progetti. Vi è mai capitato di preparare la ricetta tramandata da vostra nonna o da vostra madre con i soli e pochi ingredienti che avete presenti in frigo. Ecco, il design thinking è proprio quel metodo, quella ricetta che vi permette di che si adatta ai pochi ingredienti che avete a vostra disposizione. Questa metodologia viene utilizzata dalle aziende per realizzare servizi e prodotti. Io lavoro nell'ambito della digital innovation e anche noi utilizziamo il metodo del design thinking per realizzare prodotti digitali, quali piattaforme, applicazioni e software. Dunque, tornato a quello che era la mia missione, il mio obiettivo era quello di realizzare, individuare il mio percorso per realizzarmi dal punto di vista professionale, ma cercare anche di divenire una persona utile alla società. E allora cosa ho deciso di fare? Ho scelto di sperimentare il metodo del design thinking su me stessa. Metodo. Che fantastica parola che è metodo. Deriva dal greco metodos, meta odos, che letteralmente significa via per giungere ad un luogo, via per arrivare ad uno scopo, cioè strada attraverso cui andare oltre. Ed andare oltre le mie paure, le mie insicurezze per un futuro, era proprio quello di cui io avevo esattamente bisogno. E allora che cos'è il metodo del design thinking? Innanzitutto bisogna dire che si divide in cinque fasi. fase 1. Individua il problema. Empatizza con te stesso. Dobbiamo essere in grado di parlare con noi stessi per capire effettivamente quali sono le nostre preoccupazioni e qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Il mio problema era proprio il fatto che io non riuscissi ad individuare l'obiettivo da raggiungere. E come avrei potuto scegliere allora la strada da intraprendere? fase 2. Ricerca. Ricercare in realtà comprende in sé una serie di azioni. Investigare, indagare, ascoltare, osservare. Dovete essere in grado di osservare voi stessi dall'esterno per capire quali sono le vostre competenze e peculiarità. E dovete anche essere in grado di capire quali sono gli ambiti lavorativi in cui queste competenze potrebbero essere sfruttate ai massimi livelli. Bisognerebbe un po' comportarsi come se noi fossimo dei tecnici in un laboratorio che sono lì ad osservare i microrganismi che mutano, che cambiano in base ai diversi contesti ambientali all'interno del quale vengono inseriti. In questo caso noi rappresentiamo sia il tecnico se è il microrganismo da osservare. Un'altra azione importante in questa fase è il dialogo. Il dialogo interiore verso sé stessi e il dialogo verso gli altri. Dobbiamo essere curiosi. Chiediamo più cose possibili. Terza fase. Definizione. Dobbiamo effettivamente capire i contesti, i settori all'interno dei quali le nostre competenze possono essere più utili. Ma dobbiamo sempre valutare tutte le opzioni che si presentano. In questa fase il campo d'azione all'interno del quale andremo a compiere le prossime mosse comincia a restringersi. I bordi della strada si fanno finalmente più nitidi. Quarta fase. La messa in pratica. Io la chiamo la fase del coraggio. Buttati, sperimenta le tue competenze. Arrivata ad un certo punto del mio percorso lavorativo, io ho abbondanato il lavoro, anche il lavoro all'interno del quale avrei ancora avuto possibilità di fare carriera. Ho quindi lasciato la mia comfort zone perché avevo finalmente capito quello che non mi piaceva fare. Ma ero così vicina dall'afferrare con consapevolezza quello che in realtà mi piaceva fare. Stavo frequentando, stavo per terminare un master, contemporaneamente lavoravo in uno studio di architettura internazionale e nel frattempo ho avuto la possibilità di dirigere alcuni eventi all'interno del palinsenso della Design Week. Da prima ho terminato tutti i progetti, anche con un discreto successo, dopodiché mi sono rimessa subito in gioco e finalmente ho cominciato il mio percorso all'interno del mondo del digital. Grazie a questa scelta e alle esperienze che ho maturato ho avuto anche la possibilità di vincere alcune competizioni progettuali nazionali ed internazionali e questa cosa mi ha data ancora più motivazione per individuare e raggiungere l'obiettivo che finalmente avevo fatto mio. Questo per dirvi cosa? Date modo a voi stessi di fare anche esperienze diverse perché solo così potrete capire effettivamente cosa vi piace fare e cosa in cui siete più portati a fare. Probabilmente in alcuni contesti vi sentirete a disagio, addirittura lasciatemi passare il termine, piccoli, perché magari meno competenti e con meno esperienze rispetto ad altri, ma saranno proprio quelle esperienze a darvi tanta motivazione e a farvi crescere. E arriviamo all'ultima fase, potenza, il potenziamento. Siamo all'ultimo step. Adesso finalmente abbiamo individuato cosa ci piace fare, il settore all'interno del quale possiamo operare e quindi adesso dobbiamo semplicemente fare esperienza. Se noi vogliamo realmente evolvere il mondo, dobbiamo prima evolvere noi stessi. Ed è esattamente quello che ho fatto. Ho cominciato a stressare sempre di più le mie competenze, frequentando ambienti stimolanti e collaborando in team di persone molto più competenti di me. Quello che io voglio dire con questo discorso, non sono qui a vendere il metodo del design thinking, ma se realmente voi giovani volete dare un apporto positivo alla società, volete dare un impatto innovativo alla società, il progetto primario sul quale dovete investire il vostro tempo con determinazione ed impegno siete proprio voi stessi. Al di là delle opportunità che vi vengono offerte dalla scuola, dal mondo del lavoro, dalle realtà e dagli altri enti, il progetto sul quale dovete investire siete voi stessi. Al di là delle collaborazioni all'interno di aziende e di studi professionali, ho avuto anche l'opportunità di far parte e di collaborare con associazioni community, all'interno dei quali ho avuto la preziosa, e ripeto preziosa, occasione di interagire con ragazzi molto più giovani di me, giovani intraprendenti, pieni di idee, pronti a divenire il prossimo Elon Musk. Però anche loro, come me e i miei contanni in passato, ancora oggi sentono quel senso di repressione, ma hanno quel forte desiderio di volersi sperimentare e di voler lanciare al mondo il proprio potenziale, magari in maniera anche più dosata. Io dico ai giovani, questi giovani, che oggi ci sono in Italia tante possibilità, contesti lavorativi e formativi, per così dire, anticonvenzionali. E lo dico con un sorriso sulle labbra anticonvenzionali, opportunità all'interno delle quali potersi sperimentare. Quindi facciamo un atto di coraggio e mettiamoci in gioco. Allora vi dico, se non ancora l'avete fatto, fermatevi e trovate il metodo per valorizzare il vostro potenziale. Design yourself, siate il vostro progetto più importante e la società ve ne sarà riconoscente.